Radio Radicale siamo con Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia per commentare la scarsa adesione all'astenzione dei magistrati che fanno parte dell'ANM che non hanno aderito allo sciopero. La percentuale oggi a Milano era del 38-39%, molto bassa. Abbiamo visto anche i dati dello sciopero in Abruzzo, hanno partecipato 70 magistrati su 188-189. Sorpresa? Ma diciamo che questo rappresenta un po' quello che sta succedendo all'interno della magistratura, che ci sono sicuramente delle lotte interne per acquisizione di posizioni e quindi anche il posizionamento rispetto a questo sciopero che ovviamente era stato indetto dai vertici, evidentemente rappresenta proprio questo. Uno scollamento in realtà anche con il Ministero della Giustizia e con il Ministro della Giustizia. Noi sappiamo che questa riforma sostanzialmente non ha cambiato praticamente nulla di fondamentale nella elezione all'interno del CSM. Probabilmente questo è un segnale forte da parte di una parte della magistratura. Ecco, quindi loro si sono spaccati? Sicuramente, sicuramente. Mi pare che sia assolutamente evidente. Se viene indetto uno sciopero e questo sciopero, tra l'altro, vorrei ricordare, è stato raccontato e dipinto come uno sciopero voluto fortemente da tutti i magistrati perché appunto la riforma non piaceva e non risolveva alcune delle tematiche poste dai magistrati. Ovviamente diciamo in ottica completamente diversa dal motivo per il quale non piace a Fratelli d'Italia. Ma comunque il fatto che sia stato indetto uno sciopero e che a questo sciopero non abbiano risposto una parte rilevante di magistrati è indicativo del fatto che in questo momento la magistratura ha delle spaccature e ci sono sicuramente delle lotte di potere all'interno del CSM. Ritiene che ci sia stato anche il fattore che molti magistrati non si sono voluti mettere contro il Parlamento? Questo elemento secondo lei c'è stato oppure era secondario? No, io non credo che questo abbia influito più che le spaccature all'interno della magistratura. Non mi pare che in Italia ci sia mai stata una magistratura diciamo supina al volere del Parlamento. O rispettosa? Ma rispettosa, diciamo, il rispetto lo si può mostrare e manifestare anche attraverso lo sciopero perché comunque è all'interno di un dibattito dialettico di confronto e indipendentemente da quello che è il risultato poi di oggi e quindi la mancata partecipazione allo sciopero in realtà l'ANM si era espressa in maniera molto forte contro questa riforma già prima. Quindi non credo che sia una questione di equilibri. Avrebbe evitato di esporsi prima. Secondo lei sarà più difficile adesso il cammino al Senato della riforma dell'ordinamento o questa mancata stenzione riuscita da parte dell'ANM diciamo convincerà tutti di fare il più presto possibile? Guardi, io credo che quello che succederà al Senato, è il percorso che questo provvedimento avrà il Senato indipendente dall'espressione del CSM e dell'ANM e di quello che è successo in relazione allo sciopero. Credo che quel provvedimento debba essere profondamente rivisto. Speriamo che il centrodestra di maggioranza ci aiuti a imporre un cambio vero di passo. Sicuramente il provvedimento così com'è non va bene. Io la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio Elenia Lucaselli di Fratelli Italia che oggi ha votato anche le pregiudiziali di Costituzionalità ed era presente a Montecitorio. Sì, presente nell'aula che non aveva i numeri della maggioranza. Anche se era contrario al provvedimento. Sì, no, la questione pregiudiziale era di Fratelli Italia. Sì, lo so, lo so. Eh, ok. Lo so, però altre opposizioni se ne si sono squagliate alla seconda votazione. Sì, sì, sì. Il tema è che, diciamo, la maggioranza ha dato una bruttissima prova anche quest'oggi perché su un provvedimento che è comunque un provvedimento molto importante c'è una questione pregiudiziale e, diciamo, insomma, è facile immaginare che su quello si voti perché così funziona il regolamento. e non avere i numeri, per avere il numero legale, obiettivamente con una maggioranza così vasta è, insomma, indicativo del fatto che probabilmente tanti problemi in maggioranza oggi ci sono e che bisognerebbe tornare al voto il prima possibile. Ecco, qualcuno non si è svegliato presto stamattina? Eh, probabilmente stanno ancora a mare da ieri. Allora, grazie, grazie a Elenia e a Lucaselli, Fratelli Italia. Grazie a tutti.